Ascoltare di nuovo l'agronomo della provincia Giovanni Alletto e l'imprenditore Vincenzo Vecchio. Il procuratore generale, dopo l'unificazione dei due processi di appello che scaturiscono dalle inchieste sui presunti abusi all'ex provincia di Agrigento che vedono imputati, l'ultimo presidente Eugenio Dorsi e il vice segretario dell'ente Ignazio Gennaro chiede di riaprire l'istruttoria. La richiesta del sostituto procuratore generale Emanuele Ravaglioni, che vuole sentire due testimoni chiave dell'inchiesta, sarà valutata dai giudici della Corte d'Appello di Palermo, preseduta da Adriana Piras, che hanno disposto un rinvio al 7 novembre per sciogliere la riserva. Dorsi, difeso dagli avvocati Daniela Posante e Giuseppe Scozzeri in primo grado, è stato assolto da quasi tutte le accuse. Una trentina di ipotesi fra abuso di ufficio, concussione, peculato e truffa, è condannato a un anno di reclusione per un'accusa di abuso d'ufficio collegata al rimborso di una quindicina di pranzi, qualcuno consumato in autogrill o paninerie senza che risultasse adeguatamente motivato il fine istituzionale. La condanna a otto mesi a Gennaro scaturisce dall'avere dato il via libera all'approvazione. Contestionalmente a questa sentenza, però, sono stati restituiti gli atti alla Procura, che oltre a impugnare quasi tutte le assoluzioni, ha istruito un nuovo processo concluso con la condanna a quattro mesi per corruzione per esercizio della funzione, che scaturiva dall'avere ricevuto 40 palme per la sua villa di Montaperto, attorno alla quale ruotano diversi reati da un vivaista come corrispettivo per un appalto che consisteva nella vendita di tutta la merce della sua attività prossima alla chiusura. A piantare le palme sarebbe stato proprio Giovanni a letto e su questa circostanza è contestata un'ipotesi di peculato perché l'agronomo sarebbe stato sottratto al suo lavoro negli orari di servizio. L'imprenditore Vincenzo Vecchio, invece, è protagonista di un dietrofront clamoroso. Fra le due testimonianze, che lo ha fatto finire sotto inchiesta per corruzione, in atti giudiziari, insieme allo stesso Dorsi, avrebbe svolto i lavori e non sarebbe stato pagato.